Siamo giunti ai gruppi di allevamento, accogliamo con un applauso il giudice Giulio Bezzecchi. Iniziamo con un gruppo di Rhodesian Ridgeback, Labrador, Beagle, Schwerksnauzer Neri, Piccoli levrieri italiani, Chihuahua pelo lungo, Per cortesia intanto i migliori soggetti di razza del primo raggruppamento sono attesi nel tre ring dove il giudice comincerà a visionarli. Qui intanto vediamo il movimento dei vari gruppi, vi ricordo che il gruppo deve essere formato da un minimo di tre a un massimo di cinque soggetti. Il regolamento dice senza distinzione di sesso, quindi possono essere tutti maschi, possono essere tutte femmine, possono essere maschi e femmine, ma la cosa più importante che devono avere in comune è che possono appartenere a persone diverse, ma devono provenire tutte dal medesimo allevamento. Quindi si giudica l'omogeneità dei soggetti che compongono il gruppo per morfologia, tipicità e colore e ovviamente più simili sono tra di loro maggiore sarà stata l'opera di selezione dell'allevatore che ha saputo dare una propria impronta ai soggetti da lui prodotti. Grazie! Grazie! E abbiamo risultati anche per quanto riguarda i gruppi di allevamento e precisamente al terzo posto il gruppo di piccoli levrieri italiani. Al secondo posto il gruppo dei Labradon E vincono gli Schwerksnauzer Grazie! 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 Grazie!